Ciao, la novità letteraria che ti presento è il libro ambientato in un mondo post-revoluzione dove la tecnologia controlla ogni aspetto della vita. Scopri i segreti che nasconde la distopia futuristica e lasciati coinvolgere in un misteri che esplora il ruolo sempre più pervasivo della tecnologia nella nostra società. La trama del libro Poster Girl, di Veronica Roth, è la seguente. Sonia Cantor conosce molto bene questo motto, visto che ha ispirato, meglio condizionato, gran parte della sua vita. In realtà queste parole hanno condizionato la vita di tutti gli abitanti della megalopoli di Seattle Portland Vancouver. Per anni, infatti, hanno dovuto adattarsi a un codice morale molto rigido e a una costante sorveglianza da parte della delegazione, resa possibile da una sofisticata tecnologia. Poi la rivolta ha cambiato tutto. La delegazione è stata rovesciata e sostituita da un nuovo governo. Tutti coloro che avevano avuto un ruolo nel regime precedente sono stati rinchiusi insieme alle proprie famiglie nell'apertura, una vera e propria prigione alla periferia della città. Gli altri, finalmente liberi, hanno potuto proseguire con le loro esistenze. Sonia, figlia di uno dei membri di spicco della delegazione e diventata famosa per essere stata, da adolescente, il volto dei manifesti propagandistici affissi per tutta la città, è imprigionata da anni nell'apertura. Un giorno, un vecchio nemico si presenta da lei con una proposta, se troverà Grace Ward, sottratta alla famiglia dalla delegazione quando era ancora una bambina, sarà libera. Per portare a termine la missione Sonia sarà obbligata a muoversi in un mondo che non riconosce, di cui ignora i meccanismi, estraneo ed estremamente corrotto. E, soprattutto, a scavare a fondo nel passato, compreso quello della propria famiglia, anche più di quanto vorrebbe, portando alla luce verità dolorose e difficili da accettare. A più di dieci anni dal suo esordio con Divergent, Veronica Roth torna alla distopia con un misteri che esplora il ruolo sempre più pervasivo della tecnologia nella nostra società. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.